Buonasera amici sportivi del torneo arcobaleno, commentiamo una partita di Champions League, recupero fra Italian Tech Team Newcastle Punti importanti in questa Champions per poter passare il turno, Italian Tech Team con Bugio Trepali, poi Mangiameli, Nassissi, Andrea Nassissi, Petralia Ciofolo e Platania Dalla parte opposta i Newcastle imbattuti ancora in questo torneo con Marletta Trepali, poi Muletto, Pellicori e Fiducia in difesa, Ambra, Ferro e Chesafulli Il trio delle meraviglie si ricompone quest'oggi E quindi andiamo a vedere adesso con le immagini montate dal nostro Francesco Di Grazia quello che ci offre la partita Che si sblocca subito al quarto minuto con questa grandissima punizione di Ciofolo Un'esecuzione davvero magistrale, andiamo a rivedere dal replay l'esecuzione davvero eccezionale di Ciofolo Sotto l'incloscio non può nulla lo strepitoso Marletta In avanti ancora sempre Italian Tech Team, palle e mezzo da parte di Petralia e Platania, non sbaglia, porta sguarnita 2-0 Italian Tech Team che partono davvero con il turbo Li vediamo all'assist, Platania Dalla non può sbagliare, colpevole la difesa dei Newcastle Newcastle che adesso provano a impostare Sulla fascia destra, perdono palla, ne approfitta Nasisi, un ziluro che batta ancora Marletta ma ancora una volta errore difensivo dei Newcastle Lo possiamo vedere qua, errore davvero gravissimo Newcastle che non c'erano mai fatto vedere cose del genere in questo torneo, questa volta accade Newcastle che stiamo fuori dalla partita ma provano a rientrarci con questa bella azione manovrata Dalla sinistra, palle in mezzo per Ambra, Ambra ancora, prove il tiro E c'è la rete di Ambra al decimo minuto, appena un minuto dopo il gol di Nasisi Ambra rimette la partita in equilibrio Andiamo a rivedere, Ambra il bel destro e c'è la rete Ancora in avanti Newcastle, provano quindi adesso a riaguardare il pareggio Ancora con Ambra, grande accede personale di Ambra, il tiro Che sorprende Burgio sul primo palo Battuto Burgio ancora da uno strepitoso Ambra che sale in cattedra e si mette in mostra Il folletto di Newcastle, guardate il tocco col sinistro a battere Burgio Al diciottesimo minuto, calcio di rimessa, palle in mezzo, gran traversone, esce a vuoto Marletta E c'è la rete di Platania, erroraccio qua di Marletta che va a farfalle Ne approfitta Platania, con questi davvero cross ci hanno abiliato davvero in modo delizioso Il tentex team, cioffolo, gran palla sul secondo palo, Marletta esce a vuoto C'è la rete di Platania, 4-1 ma la partita non è chiusa Nella ripresa, subito a quarto, imposta Ambra Palla per Muletto, ancora palla in mezzo e arriva, scusate, l'assist di ferro Il rompe Muletto e c'è la rete al quarto minuto che riapre il risultato della partita Rivediamo Muletto che si fa vedere pronto sull'assist di ferro e non sbaglia Al nono minuto lancio lungo di Nassisi a cercare ancora l'inserimento di qualche compagno Esce Marletta, chiude molto bene Petralia, poi trova una traiettoria davvero incredibile E c'è la rete di Petralia, davvero i tentex team spumeggianti Newcastle oggi in difesa non eccellenti, qua forse però Marletta incolpevole Vede il pallone all'ultimo Ma i Newcastle non demordono ancora, provano a girare sempre sulla fascia sinistra Impostano gran parte delle azioni su quella fascia dove ritrovano spesso spazio E c'è adesso un calcio di rigore Vediamo il tiro, credo di Crisafulli La mano del difensore dei tank team Sul dischetto lo stesso Crisafulli La potenza devastante del bombe di Newcastle Centrale il tiro Burgio dalla parte opposta Si butta, vediamo sulla destra E Crisafulli fa davvero spodere il destro Al dodicesimo minuto, un minuto dopo Ancora in avanti, Ambra prova a mettere il pallone in mezzo L'azione un po' confusa La palla poi arriva a Crisafulli Che ancora una volta trova la rete Doppietta per il bomber Crisafulli Rivediamo l'azione confusa Poi protegge il missimo corpo E riesce a far partire il destro Ventiduesimo minuto Palla ancora dentro E Crisafulli nuovamente Si fa trovare In questa grandissima occasione Con Burgio colpevolissimo di toccare la palla E' più un autogol che gol di Crisafulli L'Italian Techsteam adesso rischiano Perdono palla in fase difensiva E ne approfitta ancora Crisafulli Che ruba la palla Al difensore Si tratta credo di Mangiameli Rivediamo dal replay Se pro Mangiameli Bravissimo Crisafulli caparbia Di andare a rubare questa palla A cercare il diagonale col destro Battuto Burgio Una rimonta incredibile da parte dei Newcastle Una vittoria eccezionale In luce Uno splendido Ambra Ma davvero di nota Anche la prestazione di Petralia Buonasera dal Torre Arcopaleno Dopo il recupero della seconda giornata Tra Italia Techsteam e Newcastle Eccoci con Ambra da una parte E Petralia da una parte e dall'altra Allora perché oggi siete qua tutte e due? Perché comunque abbiamo voluto premiare Abbiamo voluto fare questa eccezione Perché diamo prima la parola un attimo a Petralia Un primo tempo perfetto Sì diciamo sì Abbiamo giocato superiore agli avversari Il primo tempo Il secondo tempo siamo colati un po' E questo ci ha fatto sì Che abbiamo perso la partita Sì perché comunque ricordiamo Stavate in vantaggio Anche se solo di un gol Alla fine dello scadere Perché stavate sul 4-2 Poi cos'è successo? Siamo colati totalmente nel campo Non c'eravamo Gli avversari hanno preso il centrocampo Che hanno fatto loro la partita Comunque oggi avete avuto un sostituto Il portiere Burgio Che era dello passato torneo Però comunque si è rivelato ottimo Un buon uscita Si è comportato molto bene E' un ragazzo che deve crescere Deve crescere però Più deciso l'abbiamo trovato Sì sì In confronto dell'anno scorso sì Più deciso Ora andiamo da Abra Allora lei invece per il secondo tempo Secondo tempo che prende il suo nome Ha fatto calmare la squadra Ha dato le posizioni E poi il risultato è arrivato Sì insomma Io comunque ringrazio i miei avversari Per aver peccato d'esperienza E speriamo Speriamo che in un eventuale finale Non si ripeta questo nostro dormire Proprio la sornioneria tipica di chi pensa Di aver vinto e già Sì perché ricordiamo Voi siete comunque passati come testi di serie Però se questo succede alle semifinali Non sarà tanto bene Infatti io cercherò di inculcare ai miei compagni Che la partita Se non si vince in campo Prima ancora non si vince Secondo me Proprio per la loro inesperienza Avevano pensato già di vincere Nel calcio non è mai così Il calcio decide il campo E se nel campo non corri Non recuperi la palla Non insegui l'avversario Le partite non si vincono Se guardiamo il primo tempo Ci rendiamo conto di quello che succede Ha ragione Allora vi salutiamo dopo queste parole Da manuale del calcio Lo possiamo dire Dalla parte di Ambra E tutto Buonasera dal Tornar con Belano Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.